Il marito, non di sua moglie, beh insomma l'ha acconciato piuttosto male, ma quanti punti gli avete dato? Quanti punti gli avete dato? L'avete ricostruito praticamente? L'avete restaurato? Vino, è vino, come vino? Come vino? Ah, ho capito, invece, signori, questo è un gruppo che si è presentato a voi in anteprima, lei, di che partito è lei, scusi? Di che partito è? Ha acconciato molto, molto bene, greggiamente, lo spirito di questa serata. Grazie, grazie, benissimo, comunque, signorina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.